Nel 2013 è stata una delle ruote veloci più interessanti del gruppo, una gradita sorpresa che quest'anno approda alla General Store Botto di Zardini. Si fa un gran parlare di Riccardo Minali ma c'è anche Michael Bresciani. Sì, ho scelto la General Store per il 2014 sperando di trovare il buon feeling per fare un'ottima stagione. Mi sono avvicinato a casa e credo in questo nuovo progetto. C'è Riccardo Minali che è un giovane molto promettente, ha talento ma anch'io quando starò bene sono sicuro che sarò al massimo dei miei potenzialità. In Ammiraglia hai trovato due persone di grande esperienza come Simone Bertoletti e Roberto Ceresoli. Come ti sei trovato con loro e come sta andando la preparazione invernale? La preparazione invernale sta andando bene. Sono tornato ad allenarmi un po' più intensamente dell'anno scorso e devo ritrovare quel buon feeling in allenamento che mi porterà a andare molto bene anche in corsa. Con i direttori sportivi per ora c'è un buon rapporto, mi stanno insegnando bene e mi stanno facendo crescere bene.